Hai mai cenato in un ristorante e ti sei chiesto come si presenta un piatto particolare? Forse stai provando una nuova cucina o viaggiando all'estero e non parli la lingua. Ordini qualcosa che suona bene sul menù, ma una volta ricevuto ti rendi conto che non è quello che volevi. Con l'applicazione Visit basta scansionare il codice QR con il tuo smartphone e il menù prende vita con immagini, ingredienti e informazioni nutrizionali. Questo in varie lingue. Rendi visibile la tua visita al ristorante e scarica subito l'app Visit.